Fano ha le idee e Pesaro le realizza. Ora non c'è rimasto che aspettarsi la Pesaro dei Cesari per il cappotto definitivo ad opera dei pesaresi a questa giunta di gente poco orgogliosa di essere fanese. È il pensiero dei consiglieri comunali Alberto Santorelli e Maria Antonia Cucuzza che reputano grottesco quanto sta accadendo in città. La beffa arriva proprio con il carnevale. Ci siamo trovati ieri la notizia dell'organizzazione di un carnevale estivo nel lungomare di Pesaro quando Fano ha scelto di non farlo per volontà degli amministratori fanesi e del Partito Democratico che sembra andare a ruota rispetto a quello che fa Pesaro. Sembra preferire gli eventi di Pesaro e quindi annullare quelli di Fano, annullare ogni tradizione folcloristica a cui la città è da sempre affezionata. Un modo di fare che sta diventando inaccettabile, vergognoso e che ci relega purtroppo ad essere comprimari della città di Pesaro, ad essere sempre in secondo posto in un'estate che non sta per nulla decollando. Siamo a metà luglio, il tempo è buono ma non c'è l'ombra di un'iniziativa organizzata che possa essersi definita tale e tutto questo non va bene perché va a sommarsi a un mese di brutte figure che ha fatto questa amministrazione. Infatti è ormai nota da settimane la notizia che la giunta serie abbia deciso di accantonare il carnevale estivo riportato al suo splendore nel 2011 quando era assessore agli eventi Santorelli e poi fatto crescere negli anni successivi quando la delega era in mano a cucuzza. Ma nessuno, dicono, era conoscenza della volontà del comune di Pesaro di organizzarne uno. Continua questa lagna della mancanza dei soldi, della mancanza dei fondi. Le risorse invece ci sono. Abbiamo visto da bilancio che alcune voci potevano essere utilizzate al meglio. Allora io credo che sia arrivato il momento in cui questa amministrazione dica effettivamente come stanno le cose alla nostra città. Sono scelte che si stanno facendo e come tali dopo loro si dovranno assumere delle responsabilità. Hanno scelto che la Fano dei Cesari venisse soppressa, che il carnevale estivo che ha avuto anche importanti sviluppi nel corso dei cinque anni passati, che è stato particolarmente curato. Ecco, queste scelte, secondo me scelerate, dell'amministrazione seri porteranno ad un risultato che tutti vediamo, che è sotto gli occhi di tutti, cioè Fano dei Cesari e Carnevale estivo annullati. Chissà, hanno concluso se al prossimo carnevale invernale vedremo il carro del sindaco di Pesaro Ricci, vero capo delle legioni e anche fanesi, al posto di quello tanto zannato allo scorso carnevale del sindaco Seri.